e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video calcistico che riguarda le nuove figurine calciatori panini 2023 2024 oggi apriremo insieme due bustine di non un solo pacchetto ma ben due pacconi di questa collezione ora apriamolo insieme allora questo è il primo pacchetto avriamolo insieme abbiamo mail similar federico fazio alessandro romagnoli marvin alcuni alcuni stemmi per l'album digitale tre giocatori dell'ascoli altri tre giocatori dell'ascoli e poi due squadre di serie c l'albino f l'alessandria ora apriremo un altro pacchetto allora iniziamo subito con kevis kevin struttmann fabiano parisi poi abbiamo la firma di roberto gaiardini la firma di sembu caema e la firma di duan zapata ciao ragazzi lasciate un bel like e iscrivetevi al canale ciao